Cari figlioli, è da tempo che non ci vediamo qui a messa per celebrare il Signore. Spero che abbiate sfruttato questo tempo per riflettere sulle Sacre Scritture e aprire il vostro cuore allo Spirito Santo. Avete trovato Gesù? Perché vos siete perso? Usate dei chiodi più grossi la prossima volta. Oggi parleremo di una figura che viene spesso bistrattata in questo fantastico mondo del fantastico. Invece andrebbe venerata, oltre il padre Pio, oltre il set di madonne che fanno cose tipo Barbie. Stiamo parlando di colui senza il quale questa religione non avrebbe modo di esistere. Giuda! Senza di lui, senza il suo bacio, senza il suo tradimento, Gesù non sarebbe stato catturato. Il piano di Dio sarebbe andato completamente a farsi fottere. Giuda ha compiuto il sacrificio più alto, altro che Gesù. Gesù lo sapeva che sarebbe resuscitato dopo tre giorni. Così so boni tutti. Mentre Giuda, Giuda non solo non sarebbe resuscitato, ma ha ricevuto la più lunga shitstorm della storia dell'umanità. Ma lui ha comunque svolto il suo ruolo, ligio al dovere, rendiamo grazie a Giuda. Senza di lui Gesù non sarebbe stato crucifisso. Vabbè immaginate se Giuda rifiutava. Gesù andava nel panico. E mo' che faccio? Se ho il figlio di Dio non mi posso manco suicidare. Come sarebbe morto Gesù? Se cambiava la morte, cambiavano anche tutte le conseguenze della sua morte. Tipo se Gesù lo impalavano, ma dove gli comparivano i stigmati ai santi? Ma vi immaginate i pellegrini in fila per andare a baciar buco del culo del padre Pio? Diventava un casino pure con l'iconografia, con i simboli di salvezza, ma con che faccia dicevi va di retro Salana con culo impalato. Quindi rendiamo giustizia a Giuda, amiamolo e rendiamogli grazie. Anche se... Io in tutta sta storia ho ancora un dubbio. Dio ha ordinato espressamente nei suoi comandamenti non uccidere. E poi tutto il piano per salvarci a noi prevedeva che gli ammazzassimo il figlio. Ma c'è stato là o c'ho avuto problemi con la sceneggiatura? Allora, abbiamo un problema con la seconda serie. L'ho detto io, l'ho detto io. È troppo corta, ma ci tiravamo fuori massimo 4-5 puntate. Tocca inventarsi qualcosa, un nemico che ritorna. Magari ieri tiravamo fuori la rete Babilonia. Oppure le giziani che mi ritornano ad armare tipo zombie. È bellissimo, è figo. No, no, ma è passato troppo tempo. Secondo me così non è neanche la lunghezza il problema. Poi ho già delle idee. Comunque raccontiamo la storia anche da punti di vista diversi, di diversi personaggi. C'ho anche un'idea sull'epilogo. No, lo facciamo sul dopo l'epilogo. Possiamo che alcuni personaggi raccontano quello che hanno vissuto, quello che hanno sentito raccontare. Una sorta di spin-off integrato nella seconda stagione. Secondo me così potrebbe andare per allungare un po' il brodo. Ragazzi, il problema è strutturale. Abbiamo messo dei paletti nella storia. In una puntata focale Dio ordina di non uccidere. Qua tutta la seconda stagione l'abbiamo basata sul fatto che l'umanità per ottenere la salvezza deve ammazzare il figlio. L'ho detto io, eh. L'ho detto io. All'inizio c'è pure un problema di spoiler. Si capisce subito che Gesù è il fio del Dio. Manca la magia, la resurrezione. Te l'aspetti poi. Tocca a mettere qualcosa, tocca a mettere qualcosa. No, no, ma lasciamo così. Ma non vi preoccupate. Ragazzi, ma tutti gli errori che abbiamo fatto nella prima stagione, ma se ne è mai accorto nessuno? Nell'episodio pilota abbiamo messo, abbiamo fatto gli alberi il giorno prima della creazione del sole. ma con un errore del genere al Comic-Con ci tirano i sassi. Datemi retta. Puntiamo forte sulla creazione. Vedrai che la storia andrà bene e gli tiriamo giù tutti i grandi classici, ragazzi. Andrà benissimo. Io c'ho grandi progetti, eh. Guarda che se va bene sta storia tra qualche anno ci fanno pure il remake, eh. Mettiamo tutto insieme, cambiamo la location, cambiamo il nome dei personaggi, è figo. Viene una cosa veramente... Ve vorrei già anticipare qualcosa, ma ometto. Grazie.